Io ho paura, ma questo dovrebbe essere i dinosauri, eh? Ho sbaglio? Dall'intro mi sembra... Come on! È una versione molto particolare questa. Ma quando canta? A dire, se non canta è anche meglio, diciamoci la verità. Però non vorremmo sentire... Ehi! Cos'è la versione strumentale? Eccolo qua. Di notte me li vedo davanti agli occhi. Mi alzo la mattina, mi danno il dolce di sveglio. Ecco. I dinosauri sono ritornati sulla faccia della terra. E si è incantata di nuovo la sera. Ma stasano in via! Vorrei soltanto sapere cosa vuol dire quella frase. Sì! L'ho trovato a San Mauro. Rima baciata, eh? Litigava con l'Alosauro. Era anche il tirannosauro. Stai attento a lui. È il più pericoloso di tutti. Eh, facciamo il diritto di lui. Ti fa chiudere i negozi per l'ultimo. Il diritto di lui. Ma sono ritornati dinosauri sulla terra. Ma 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 sono ritornati dinosauri sulla terra. Ma 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 sono ritornati dinosauri sulla terra. Bene, Magic Voice. Terzi. Ma 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 sono ritornati dinosauri sulla terra. Salutiamolo, dai, grazie. Basta così. I dinosauri sono tornati sulla faccia della terra. Grazie. Ciao, Magic. Ciao, ciao. Prego. Al mio padrino Roberto Ferrari. Ma quando vai? Un ringraziamento di cuore. Ma quando? Gli vorrò bene tutta la vita. Grazie. Roberto, ti voglio bene. Ti ringrazio, però io non ho mai fatto il tuo padrino. Allora, ragazzi. Termine, ciao belli. Stasera parte Grande Fratello e anche noi con Pino Maiule, regista Imposimato. Sì, certo. Partiremo da lunedì con la versione radiofonica. Ecco. Per adesso la telecamera è posizionata solo nel bagno. Proviamo ancora a collegarci. C'è un microfono, ovviamente. Aiuto. Oh, mamma mia. Sì. Oh, Luisa, chiamo dopo. Sì, no, no, sono in bagno. Eh, sì, non si sente. Dottorio, stai via in più per le famiglie. A sostenermi un motivo del commercio, questa sarà la maggior... Questa sarà la maggior spesa da sostenere in autunno. Ecco. Quella, ma è cosa c'è? Telefono. Pronto? Sì. Sì, salve signor Pabelli. No, la chiamo tra... No, sono in bagno. Sì, sì, sì. Sì, la chiamo tra un minuto. È meglio, è meglio, forse è meglio. Ciao a tutti, ciao Impino. No, togli, togli il microfono. Ciao, ciao Pabelli, ciao Pabelli, ciao Pabelli.